Siamo con Padre Felix, parroco della parrocchia di San Salvatore Sotto il Monte. La giornata di oggi e quella di domani vedranno impegnata la parrocchia in tantissimi eventi, proprio in occasione della festa del Santo Patrono. Sì, effettivamente la liturgia celebra la festa della trasfigurazione del nostro Salvatore, che è anche la festa patronale Santissimo Salvatore. Questa volta ci saranno dei eventi che accompagneranno questa festa. Intanto incominciamo con la Messa a ringraziare il Signore per il Donno dell'Anno. Chiediamo ulteriori grazie per la nostra fede e la nostra vita. E poi dopo la Messa ci sarà un momento di condivisione, partendo da quello che la Chiesa ci chiede, sensibilizzare la gente per raccogliere i fondi per la vita della Chiesa attraverso l'Otto per Mille. Dopodiché ci sarà la pericena che la parrocchia offrirà ai partecipanti. La giornata di domani inizierà la mattina con la Messa e poi il pomeriggio ci sarà pure la Messa. Dopo la Messa ci sarà l'inaugurazione della biblioteca dedicata a Don Peppino, che non c'è più e che ci ha fatto il grande piacere di costruire questa chiesa, questa struttura. Abbiamo allestito una biblioteca e abbiamo voluto dedicare questa biblioteca a Don Peppino. Ricordiamo che domani la Santa Messa sarà celebrata dal Vescovo di Pozzuoli. Sì, il Vescovo ha accettato di onorarci con la sua presenza, celebrare la Messa, inaugurare la biblioteca e poi dopo l'inaugurazione ci sarà il concerto che offrirà il coro parrocchiale. Quindi è un momento molto importante per tutti i fedeli, qualora appunto volessero partecipare. Molto importante per i fedeli, sì, per la città, ma anche siamo onorati perché i ragazzi della parrocchia si sono impegnati veramente in questi giorni per i lavori della ristrutturazione della parrocchia, ma anche per l'allestimento della biblioteca. È un grazie di cuore a tutti i ragazzi che si sono impegnati. Grazie a tutti.